Alla venticinquesima giornata della colletta alimentare, un gesto che si ripete da 25 anni promosso dal Banco Alimentare. La giornata riprende un po' quelle fatte prima dello scorso anno perché lo scorso anno è saltata per via del Covid, è fatta soltanto in forma dematerializzata. Quest'anno festeggiamo il venticinquesimo tornando a farla in presenza. Si svolgerà oggi, 27 novembre, in 110 punti vendita della provincia di Belluno. Sono interessati circa 700 volontari, tra quelli che operano le punti vendita e quelli che operano le punti vendita. Siamo alla undicesima edizione con il LID perché è iniziato un po' più tardi degli altri supermercati. Comunque al momento siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda degli anni scorsi. Penso che a fine giornata sui 10 quintali di merce riusciremo di alimenti, riusciremo a prelevarli. Al momento però sembra un po' più fiacchetta degli altri anni. Comunque tutto funziona per il meglio. Siamo contenti e la gente soprattutto ci accoglie ben volentieri. Quindi è anche bello fare questo servizio.